Lo sport contro ogni discriminazione. È stato questo il tema della dodicesima edizione del concorso nazionale Onesti nello sport, rivolto a studenti e studentesse degli istituti secondari di secondo grado, statali e paritari, che aveva come oggetto la produzione di un elaborato multimediale. Ed è in quest'ottica che l'Istituto Alessandro Manzoni di Mistretta, con la sede di staccata del turistico alberghiero, con l'indirizzo sportivo di Santo Stefano di Camastra, ha deciso di prendere parte a questo concorso. Nasce semplicemente dall'idea, dalla passione per il mio lavoro e dalla voglia di far capire che anche la disabilità nello sport può essere inclusa a 360 gradi con pochissimo, semplicemente mettendo i ragazzi delle classi allo stesso livello delle disabilità dei compagni che ospitano, che stanno insieme sostanzialmente. E così noi abbiamo fatto con CAI. Tutte le attività sportive che abbiamo programmato durante l'anno, perché loro fanno parte di un turistico sportivo, sono state adattate a CAI, sia in piscina, sia quando abbiamo fatto equitazione, sia nella pallavolo, nella dama e poi abbiamo adattato un'attività ai ragazzi, che è quella dell'offball, dove i ragazzi erano tutti bendati e hanno giocato sostanzialmente con una palla sonora. Quindi loro si sono adattati a CAI ed è stato uno dei progetti più belli che abbiamo potuto realizzare sia con i compagni, divertendoci e includendo tutti. Un tema molto importante in quanto il movimento olimpico pone tra i suoi valori fondanti i principi di uguaglianza, rispetto e inclusione e si impegna con il suo operato affinché nella pratica sportiva tutti abbiano pari diritti e opportunità. Si tratta di un'iniziativa di fondamentale importanza in quanto permette di promuovere una cultura del rispetto, iniziando prima di tutto dalla conoscenza e dal confronto reciproco. Perché molte volte la disabilità viene messa da parte a mio malinguore e io che credo tanto nel mio lavoro ho portato avanti la disabilità a 360 gradi anche nell'ambito sportivo, sia pratico che teorico. Lo sport è in questo senso un importante terreno di incontro e condivisione e offre un contesto nel quale comportamenti e relazioni possono essere riscritti in una nuova forma che valorizzi le differenze e promuova una cultura della non-discriminazione. è stata una bella esperienza, molto bella, sono veramente felice, sono felice di essere incluso in questa scuola, questa è la scuola più bella del mondo, anche se è un pochino né, non è il massimo ma mi piace veramente un sacco, vado dieci, con i miei amici mi sono sicuramente un male, così il male è solo veramente contento.